A Rezzo Calabria le Fiamme Gialle hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 12 soggetti, indiziati di associazione mafiosa, concorso esterno, autoriciclaggio, impiego di denaro di provenienza illecita e trasferimento fraudolento di valori. Contestualmente i finanzieri hanno dato esecuzione al sequestro preventivo di 28 imprese, quote societari e disponibilità finanziarie per oltre 32 milioni di euro. Le indagini hanno permesso di individuare un'associazione a delinquere all'interno della quale vari soggetti attivi nel settore edile della grande distribuzione alimentare avrebbero stretto accordi con famiglie di indrangheta facilitando l'inserimento delle stesse nelle iniziative economiche. I proventi illeciti venivano trasferiti attraverso fittizio per azioni commerciali. Le cosche avrebbero agevolato le espansioni delle iniziative imprenditoriali sul territorio a discapito dei concorrenti, tutelandone gli interessi con l'esercizio della forza intimidatoria.